Nel fine settimana sulla regione insisterà ancora l'anticiclone. Questa situazione determinerà per sabato cielo sereno su tutta la regione, temperature ancora ben più alte della norma, con massime intorno ai 27 gradi in pianura, mentre sulla costa la brezza del pomeriggio porterà la temperatura sui 20-22 gradi e quindi in diminuzione questo valore rispetto ai giorni precedenti. Minime intorno ai 10-12 gradi in pianura sui 15 lungo la costa. Sui monti zero termico a ben 3.500 metri, con temperature che nei fondovalle supereranno i 20 gradi di pomeriggio. Per quanto riguarda domenica cielo in genere poco nuvoloso, comincerà l'aria ad essere più umida rispetto ai giorni precedenti. Questo farà sì che le temperature massime in pianura si fermeranno intorno ai 25 gradi e sulla costa intorno ai 20. Sulla costa sofferà brezza nel pomeriggio dal mare e l'aria sarà appunto un po' più fresca rispetto ai giorni scorsi. Per quanto riguarda lunedì e martedì passerà un fronte atlantico che lunedì pomeriggio determinerà qualche temporale o qualche pioggia sulle Alpi, poi martedì diciamo di primo mattino potrebbe esserci qualche pioggia residua ma poi il tempo migliorerà e diventerà più stabile dal pomeriggio con temperature riprese. Dall'Osservatorio Meteo Regionale dell'ARPA un saluto da Marcellino Salvador. Grazie per la visione!